team da due per oggi venerdì 5 aprile 2019 ambrap 20 minuti 50 35 calories raw 50 burpees 50 chest bar ancora 50 e 35 calories raw 50 kettlebell swing e 50 chest bar ad ogni round dovremo aumentare il peso dei kettlebell semplice ed efficace è tutto per questa settimana ci vediamo la prossima settimana ovvero lunedì per un'altra settimana insieme di world e classi su cper tv buon weekend a tutti